Musica 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 il tutto nella partita non va, la tripla, il decolle Statistica importante, questo pallo di Placischia è pesante che il giocatore viene giustamente sostituito da Maudò Assolutamente, assolutamente, io ti riguarda, mamma mia, non si è notato all'altezza in cui ha preso il rimbalzo Maudò Allora, questo non è un highlight, ma io rimango sempre a stupito con un ragazzo di 17 anni che non ha rimbalzo a quell'altezza Va bene così, Nicola, ricordati che hai l'età che hai, qua, attenzione! Non va in secondo e rimbalza l'attacco di Maudò, che c'è sempre Doppia, doppia Decisamente qua, bellissimo, rimbalza l'attacco da parte di Regnieri, che serve Maudò Reverso dall'altra parte, molto molto difficile, qua la palla recuperata, arriva il contropiede di Maudò Grazie 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 Grazie